Fin di matrimoni per consentire ad extracomunitari, in gran parte giunti irregolarmente in Italia, di ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Sette persone, tutte residenti a Battipaglia, tranne uno a Massa Lubrenza e nel Napoletano, avevano messo su una sorta di agenzia matrimoniale sui generis, che aveva consentito sinora decine di persone di sfruttare in maniera irregolare le norme in materia. Almeno fino a quando il loro operato non ha attirato l'attenzione del comandante della stazione di Olevano sul Tusciano dei Carabinieri, Dario Santaniello, che insospettito da alcune segnalazioni ha voluto controllare di persone i registri matrimoniali, individuando una serie di singolarità. Nei matrimoni finiti nel mirino dei militari tra il settembre 2016 e il marzo 2017, in totale 21, spesso c'era una netta differenza di età tra il coniuge italiano e quello straniero. In un caso, una donna della zona aveva 34 anni in più del marito. Inoltre, in quasi tutti i matrimoni, dopo aver ricevuto il permesso di soggiorno, veniva subito presentata l'istanza di divorzio al comune competente. Senza contare che chi in un matrimonio fungeva da coniuge, in un'altra faceva il testimone. A capo di tutto, una donna battipaiese di 55 anni, che nelle intercettazioni telefoniche dei carabinieri si vantava di occuparsi di organizzare matrimoni del genere dal 2003, e come appurato dai militari era impegnata con la sorella, tre figli e una nipote ogni giorno per procacciare i possibili clienti e provvedere a tutta l'organizzazione. Con l'operazione ribattezzata Unione di Fedi, i carabinieri di Battipaia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali per le sette persone coinvolte, una in carcere, una ai domiciliari e cinque obblighi di dimora con permanenza notturna presso le rispettive abitazioni, ed obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emesse dal GIP del Tribunale di Salerno, che però non ha accolto tutte le richieste formulate dalla Procura, che ha già annunciato appello per ulteriori ordinanze. Contestualmente, i carabinieri hanno eseguito una serie di perquisizioni, che hanno consentito di acquisire ulteriori elementi per comprovare i reati contestati, che sono concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, attraverso la programmazione e l'organizzazione di finti matrimoni tra cittadini italiani ed extracomunitari irregolari. 21 i matrimoni sotto osservazione, per i quali sono state individuate diverse irregolarità, come la mancanza della coabitazione effettiva tra i conugi, grazie alla quale ottenere un permesso di soggiorno di durata illimitata. È fondamentale avere la presenza sul territorio. Quest'indagine parte direttamente dalla stazione carabiniere e poi si è sviluppata. E comunque ha aperto, ha squarciato proprio questo velo su questo malcostume, su questa attività illegale, che ha fatto capire di come anche dietro gli extracomunitari che arrivano ci sono spesso persone locali che in qualche modo si approfittano ulteriormente di una situazione già abbastanza complessa. È evidente che il contatto che l'arma dei carabiniere ha col territorio ci consente di poter in qualche modo anche comprendere maggiormente questi fenomeni e quelli deleteri di poterli combattere. E quest'indagine lo testimonia. Cospicua la somma richiesta da 5.000 euro a 10.000 a seconda dei casi e dei servizi per così dire offerti agli extracomunitari. In un'occasione inoltre è stata accertata una falsa attestazione di paternità di una bambina concepita da una delle indagate al fine di ottenere una carta di soggiorno al falso padre in cambio di 4.000 euro. Il prezzo era variabile e anche abbastanza. Abbiamo delle tolleranze che potevano raggiungere anche il doppio. In effetti questo era dovuto alla circostanza se il finto coniuge su input naturalmente della promotrice di questa organizzazione che era a carattere familiare dovesse mantenere a carico quindi convitte alloggio l'extracomunitario per cui naturalmente il prezzo pattuito aumentava in modo esponenziale. Abbiamo anche effettuato dei servizi di appostamento a riscontro delle conversazioni cappatate. Abbiamo monitorato quando partivano da Battipaglia gli indagati per raggiungere l'ambasciata marocchina a Roma per avere nulla osta al matrimonio. Naturalmente abbiamo fatto anche dei servizi di appostamento nei pressi dell'ufficio comunale dei comuni interessati in modo particolare Battipaglia. Abbiamo qualche comune di Mitrofo tra cui Eboli anche Olevano sul Tusciano e abbiamo anche in due casi dei comuni che non erano proprio della Piana del Sile uno dei quali in effetti era Marchirolo dove si era trasferito una delle indagate Marchirolo in provincia di Varese.